La presenza del sindaco di Brisighella, Massimiliano Pedersoli, alla manifestazione contro il governo, indetta a faenza dal centrodestra in occasione del 2 giugno, festa della Repubblica, ha creato diversi malumori. E l'aver indossato la fascia tricolore prevista per le cerimonie e rappresentanza di tutta la popolazione brisighellese non ha fatto altro che aumentare i dissapori. Dissapori che potrebbero sfociare in un esposto alla Procura della Repubblica. Lo stanno preparando in questione il Partito Democratico e il gruppo oggi all'opposizione nel Consiglio Comunale del Borgo Medievale insieme per Brisighella. Tutto nasce da quello che è successo ieri, dove Brisighella era assente a quello che succedeva a Ravenna, dove gli altri sindaci con il prefetto festeggiavano il 2 giugno. Il sindaco e nessuno dell'amministrazione di Brisighella era presente, ci risulta essere presente, però era presente con tanto di fascia a un evento a faenza legato a un evento di partito, promosso da un partito. E quindi da qui la decisione, stiamo facendo tutte le dovute valutazioni tecniche e legali per depositare questo esposto congiuntamente, gruppo consigliare insieme per Brisighella e Partito Democratico. Di conseguenza Pedersoli ieri pomeriggio è uscito con un comunicato. Fare l'elenco della spesa di tutti i problemi che ci sono in Italia e delegarli agli altri, le soluzioni, siamo tutti bravissimi. Anche noi sappiamo che le casse integrazioni in deroga non sono ancora arrivate, come gli imprenditori non hanno ricevuto quello che era stato promesso dallo Stato o lo hanno ricevuto in parte o con difficoltà. Siamo ben coerenti e consoni che ci sono dei problemi legati all'erogazione delle casse integrazioni in deroga, agli imprenditori che hanno fatto richieste, a quelle che sono le misure per tutelare gli imprenditori da questa crisi che in parte adesso è stata dovuta dal fermo produttivo ma non sappiamo quello che succederà nei prossimi mesi, nessuno ha la spera di cristallo. Pedersoli in questo momento siede ai tavoli dove può decidere, è il sindaco di un comune, siede ai tavoli dell'Unione, che proposte ha fatto in questi mesi? Noi non abbiamo avuto notizie, anche all'ultimo consiglio cosumunale dove ha ringraziato il presidente Malpezi dell'Unione per il lavoro fatto però non abbiamo sentito proposte portate da Bresighella per i brisighellesi e per i cittadini dell'Unione. Quindi intanto chiediamo proposte concrete a Pedersoli e non solo slogan da campagna elettorale o interessamenti solo per avere visibilità. Intanto alla manifestazione rovenna erano stati invitati espressamente i presidenti delle unioni per non fare assembramenti, la presenza dei sindaci era facoltativa eccetera eccetera. questo è quello che mi risulta a me con quello che mi aveva scritto Malpezi, ecco che ci aveva scritto per la cosa del 2 giugno quest'anno perché doveva essere fatta con un numero ridotto di persone. Poi io sono andato con la pace tricolore anche a Verona per esempio alla manifestazione della Coldiretti alla Fiera di Verona, c'erano circa 300 sindaci con la pace tricolore alla manifestazione della Coldiretti, ecco lì non ha detto niente a nessuno ma evidentemente in questa provincia avere pensieri diversi dal pensiero unico non va bene. Mi viene da dire però la Coldiretti non è politicizzata. Ah politica agricola. Il rapporto fra maggioranza e opposizione a Presighella è sempre stato teso e diventa sempre più teso ogni volta che ci sono ricorrenze istituzionali. Allora noi abbiamo anche in questo periodo cercato di porre la mano per dare una mano a quella che era una situazione difficile che andava gestita in un'unitarietà proprio come anche ha sottolineato il Presidente Mattarella, ma diciamo che non siamo stati interpellati. Di fronte alle ricorrenze c'è un metodo e un modo di celebrarle che purtroppo seguono canali completamente diversi, anche da quelli che sono gli eventi storici nel loro pezzo concreto. Non erano abituati a farle loro queste giorni e adesso per 5 anni non le fanno più, ecco io non so cosa dire, le facciamo noi. Sono un po' le risposte che venivano date in passato quando la mia parte politica stava l'opposizione. Loro d'altra parte quando si sono presentati alle elezioni comunali venivano dalle elezioni di 5 anni fa dove avevano il 65 o il 67%, adesso non mi ricordo bene, sono scesi al 48-47, hanno perso praticamente quasi 20 punti percentuali, evidentemente il loro modo di amministrare non è piaciuto molto ai cittadini così che è. Capisco che possano essere un po' arrabbiati, se ne dovranno fare una ragione. Io di solito la miccia non la accendo mai, la accendono sempre loro.